Alvie è il processo per i Boc, ma non per tutti gli imputati. In sei erano stati rinviati a giudizio per i presunti illeciti relativi all'erogazione degli incentivi nell'ambito della sottoscrizione dei buoni obbligazionari comunali, aggiudicati nel 2005 dal gruppo Deutsche Bank per 105 milioni di euro da parte del Comune di Lecce. Si tratta di Egno De Leo, ex assessore al bilancio del Comune, Giuseppe Naccarelli, ex dirigente del settore economico e finanziario e alcuni componenti del suo staff, Lucio Stefanelli, Giuseppe Filippi Filippi, Adriano Migali e Donatella Rizzo. Il processo andrà avanti soltanto per i primi due imputati e per Stefanelli per il solo reato di calunnia. Per gli altri tre imputati e per lo stesso Stefanelli, l'accusa di abuso d'ufficio non sarebbe stata sufficientemente determinata dal sostituto procuratore Giovanni De Palma nel decreto che dispone il giudizio. Per questo, il collegio della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, presieduto dal giudice Stefano Serni, ha rimesso gli atti al PM che dovrà riformulare l'imputazione se vuole che il processo inizi anche per loro. Il collegio ha poi ammesso le prove richieste da accuse e difesa, comprese le prove testimoniali. Tra i big che dovranno sfilare in aula c'è l'intera giunta dell'epoca, a partire dall'allora sindaco di Lecce, Adriana Polibortone, citata dalla difesa dell'ex assessore Egno De Leo, gli avvocati Pasquale, Giuseppe Corleto e Giorgio Memmo. De Leo in particolare è stato l'unico degli imputati presente in aula. Serni ha poi accettato la costituzione di parte civile del Comune di Lecce, rappresentato dall'avvocato Amilca Retana, che però non ha ancora quantificato precisamente la richiesta di risarcimento danni, anche a causa del procedimento che si è svolto davanti alla Corte dei Conti. Procedimento terminato per Naccarelli e assistito dagli avvocati Stefano De Francesco e Pietro Quinto, con una sentenza di condanna al pagamento di 352 mila euro di danno errariale, a dispetto di una richiesta, formulata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, pari a un milione di euro. Naccarelli sta già restituendo quei soldi che puntualmente vengono detratti dal suo stipendio, attualmente dirigente dell'ufficio politiche comunitarie del Comune di Lecce. Al centro dell'inchiesta, condotta dagli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, la liquidazione degli incentivi, pari a 684 mila e 400 euro, che secondo l'ipotesi accusatoria il Comune avrebbe versato agli imputati in assenza di regolare impegno di spese senza adeguata copertura finanziaria. Gli imputati avrebbero così ottenuto un ingiusto profitto. Prossima udienza l'8 febbraio per un calendario completo che dovrebbe portare alla sentenza entro la fine di maggio.